Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, benvenuti a questa che è l'ultima puntata del corso di settimana del nostro video tutorial. Ovviamente torneremo domenica ma il video tutorial non sarà più dedicato esclusivamente al mercato italiano ma a tutti i mercati finanziari e soprattutto confidiamo finalmente di poterlo distribuire attraverso il nostro sito e non soltanto attraverso la pagina, il canale YouTube. Partiamo questa volta da un'immagine che è un po' diversa da quella che utilizziamo come copertina. è il giudizio di fondo su base grafica del nostro mercato così come si prospettava ieri sera. Vedete che il giudizio di fondo è quello bianco con la linea spessa e ci dice chiaramente di attendere dal punto di vista operativo. però è anche vero che la linea di tendenza con la prospettica tratteggiata puntava con fortissima decisione verso l'alto ad annunciarci in una qualche maniera che quello che era cominciato di fatto ieri non si era ancora di tutto esaurito e che avrebbe dovuto portare il nostro mercato ancora più in alto rispetto alle soglie raggiunte ieri non che poi fossero soglie particolarmente elevate perché in grosso modo non è che ci portava su dei nuovi massimi però il recupero è stato veramente intenso circa due punti e mezzo percentuali non si buttano mai via e l'immagine che vediamo qui prospetticamente ci lasciava sperare che anche oggi il nostro mercato potesse salire ulteriormente. adesso andiamo a vedere un attimo la matrice che è quella che noi utilizziamo sia come matrice dello spazio sia come matrice del tempo la matrice era tutta verde nel suo complesso verde anche se alcune situazioni come il movimento e soprattutto l'inerzia erano ancora incerte però per quel che riguarda l'impulso e l'allineamento delle curve direi che si stava abbastanza bene le criticità normalmente le troviamo su base temporale le si può vedere bene anche qui già qui si notano che sul mercato c'è una criticità ma se andiamo sulla matrice del tempo la cosa è molto più evidente perché vedete che di fatto mentre il mestrale era un po' incerto di fatto ma con un allineamento certamente positivo ma l'allineamento di insieme comunque positivo il mensile al di là dell'incertezza su un movimento di inerzia aveva un impulso negativo un allineamento negativo con un giudizio di insieme negativo stava a ieri sera molto bene il giornaliero e un po' meglio di quel che stava il giorno prima il settimanale adesso andiamo a vedere esattamente cosa è accaduto facendo un percorso un po' diverso come facciamo solitamente andiamo a vedere cosa è accaduto sono le 17.36 quindi il nostro mercato ha chiuso da un minuto o due andiamo a vedere che cosa è accaduto realmente sul nostro mercato e poi dopo andremo a prendere invece la console di sintesi per vedere cosa è accaduto come sempre facciamo il percorso che questo potente Imagine Excel ci consente cliccando sul quadratino blue passiamo alla realtà del nostro mercato siccome però ora che si apre ci vuole un po' di tempo io staccherò la registrazione e la riprenderò soltanto quando il grafico si sarà aperto del tutto ora si registrerà la conferenza e questo è il grafico dell'ultima giornata con una grossa fetta di quello che era accaduto ieri vedete che il nostro mercato anche oggi già come è avvenuto ieri apre in gap poi il gap non lo chiude praticamente mai rispetto ai massimi di ieri vedete che si resta comunque al di sopra delle soglie massime raggiunte ieri sale fino a grosso modo comunque non è proprio indegno come ci si poteva come si sarebbe dovuto temere perché al di là di questa immagine che ci appare e che ci comprime praticamente le ultime tracce vedete che non è proprio così male nel senso che si poteva anche temere il peggio in buona sostanza il nostro mercato si è portato a cavallo di 25.000 punti ma ha fatto poi fatica a tenerli lì eravamo circa più 1,20 grossomodo chiudiamo un più 0,50 e qualcosa dai massimi perdiamo circa 200 punti soprattutto chiudiamo più o meno dove avevamo aperto cioè di fatto se escludiamo il gap nella giornata odierna non si è guadagnato di fatto nulla non saprei dirvi se questo è un segnale negativo come è facile sospettare perché quando non si riescono a chiudere quando si chiude un po' sui minimi normalmente ci si attende il peggio il giorno dopo però su queste cose io le prenderei un po' con le molle in questa fase diciamo che non si è guadagnato niente rispetto a tutte le ore di seduta che ha avuto però è anche vero che rispetto a ieri portiamo a casa qualcosa in più e il nostro mercato chiude praticamente su soglie superiori a quelle con cui aveva chiuso ieri fermiamoci qui perché il grafico odierna non merita nemmeno grandi considerazioni facciamo tutt'altro tipo di discorso e lo faremo partendo dalla console di sintesi che volutamente non vi abbiamo mostrato all'inizio dateci un attimo e arriviamo subito ora si registrerà la conferenza e quel che ci mostrava ieri sera la nostra console di sintesi era abbastanza inquietante perché con una seduta che aveva chiuso con più 2,36 in realtà il giudizio di medio-lungo che apparentemente non doveva avere alcun senso perché il giudizio di medio-lungo è influenzato dal mensile e dal trimestrale perdeva molte posizioni molte posizioni da 4 che era andava in 2 2 di giudizio medio-lungo e giudizio negativo e certamente è il giudizio più negativo che noi ci sia visto direi tranquillamente negli ultimi mesi non ricordo di averlo visto un giudizio così pesante sul nostro mercato negli ultimi mesi e il giudizio per il verissimo recupera qualcosa dal 3 che aveva il guadagno del nostro mercato ovviamente sale e si porta su 11 punti il che fa un po' scendere l'utilità di lungo periodo sul portafoglio ma questo ci stava abbastanza strano è il fatto che l'inserimento in portafoglio diventava profondamente negativo perché è un rosso fuoco allora il mantenimento è diventato giallo 182 niente di che l'utilità di breve evidentemente scema moltissimo attenzione perché l'utilità di breve qui non tiene conto del brevissimo lo ripetevo già ieri qui siamo su base settimanale scende moltissimo rispetto a quello che avevamo in passato è che questa situazione era una situazione di non eccessivo conforto tuttavia tuttavia se andiamo a vedere l'analisi operativa vediamo che su brevissimo effettivamente il nostro mercato aveva come obiettivo e anche un'ottima attendibilità quindi non era cosa di poco conto di poter avvicinarsi ai 25.073 punti non li abbiamo mai raggiunti ma evidentemente arrivando a 25.000 punti partendo da 24.670 di ieri possiamo dire che quantomeno l'obiettivo era era quello cioè l'area dei 25.25.100 punti 24.623 non li abbiamo toccati perché siamo rimasti sopra ai massimi di ieri l'abbiamo visto quindi il minimo che poteva fare da supporto a 24.377 lo vedete qua era così lontano che non c'è stato alcun bisogno il problema è che lo scenario era rialzo ma non solido secondo Rasputin e in effetti quanto ha avuto oggi ha dimostrato che non era particolarmente brillante la cosa ora adesso è evidente che quello che avremo domani sera sarà un dato decisivo per capire quel che accade teniamo conto di una cosa se ritorniamo in console di sintesi e leggete i giudizi di fondo ci dice che chiaramente qui i giudizi di fondo fa riferimento al mercoledì e dice ci vuole una settimana probabilmente per capire quel che accadrà perché siamo in situazione siamo giunti su soglie decisive e fare un passo verso il basso potrebbe diventarsi molto molto pericoloso ora vediamo che cosa accade domani molto probabilmente l'ultima di settimana di luglio necessariamente sarà molto più importante di quel che potrà accadere domani ma forse già domani qualche indicazione di massima la potremmo trarre e ovviamente sarà la nostra premura fornirvela nel fine settimana con questo vi saluto appuntamento quindi per questo video tutorial ma non più sul solo mercato italiano ma aperto ai mercati finanziari internazionali è per domenica e quindi non di certo per l'ora dell'aperitivo ma forse per l'ora della colazione ma forse per l'ora della colazione ma forse per l'ora della colazione